se almeno alunni 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 un saluto a tutti i ragazzi sono gioco in turno deve a caso e oggi sia a me c'è il patente ragazzo che vi parla lì sopra ma non lo sapevo che stavi cominciando il video allora questa è la terza volta che proviamo a cominciare voglio entrare che mancano 30 secondi anche se non lo vedo me lo dici di che è formato da un matico è quello del quadro 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 numero 1 dai 1 dove sei ecco e comunque prima abbiamo cominciato abbiamo provato a fare paintball però le persone non entravano e quindi abbiamo capito di game in drama tra un minuto con cazzo a nessuno perchè lo dici non gliel'entrima a nessuno perchè devo parlare perchè mi devo sfocare ha capito se vuoi ti picchio semmi chiedi a casa mia picchiaview ah 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 casa mia picchiavi ah 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 e solo alle 3 anche di parte e quindi un minuto e potri come come si disegni sto cazzo di cosa non lo so io non cazzo cos'è quello cos'è quello ma cosa sta facendo un pen e poi in inglese quindi dobbiamo dobbiamo impegnarci per bene ah dobbiamo indovinare cosa dovrebbe essere scrivendole in chat e poi cosa può essere nave porco uomo uomo nero spider si preciso un'altra parte black barbara parla 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 dove si sa io si cosa ti segno io aiuto per esempio in chat cosa devi disegnare è difficilissimo insegnarlo spieghi un poco così lo posso indovinare un attimo blu 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 che cazzo è d'umpalle e sta venendo un po' s believed just però ción porno chi cosa è la precini diしました helped one montante non so come parla car amore taste mac ... ah e come si scrive bike? no ehhh edsette aspetta come si chiama? e come si scrive? motor motor bike minchia ma che cos'era? bicicletta! ma vaffanculo! assurdo! ma che cos'era? ma siete degli stroppi! dovete morire male! era una motiletta quella! e non l'avevo letto che era un biciclo! quanto affa un biciclo? quanto affa un biciclo? ma hai visto? mi continui ad app stai zitto? si ma qua... qua facciamo a botte! e che deve disegnare? white cos'è? boni siamo qua! ship ship? cos'è? e copriamo Giovanni? ship? porco rosco che sei per il porco ma non c'è un porco oh male! smettita con i porci ruota! e come si scrive ruota? iphone uff afle ho indovinato school school dovrebbe essere di... school e teschi se non sbaglio no? fosse inizio confondendo si 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 school e teschi chi disegna ora? eh... turpo t non è vero! no t grande cosa l'ha cancellato? ok white eh no white... white... come si è white? car black black eeeh... home eeeh... eeeh... m***a io ho ancora uno l'ho indovinato fon! fon! eh! vuoi chi togli? oh! l'ho indovinato! l'ho indovinato! ooooh! eeeh... 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 l'italiano vediamo! l'italiano aiutaci! cosa sta facendo? oh beh... già subito incominciano! eeeh... a lui sicuramente gli sarà toccato questo! oh oh... eeeh... 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 ma... cosa sto qua? ma che caspito? spogliamo cosa è caso hhh... Enerp? eeeh... n re'indichato in group? no... ah no l'hai bella!! ma che sta facendo? non ti confondere! eeeh uhhh... o s era? windo... no! Finestra Bro, mica, ma questi hanno dei nomi Certo, il mio nome non è del migliore, però Cacca blu, io voglio vedere appena disegni tu Ho fatto pure la rima Oh, oh Quindi a me mi è toccato Mi hanno rubato il profilo di peffa Trendato questi stronzi Mi sono costretto a comprarmi di nuovo il gioco Certo Barere, senti, sbrigati per fuori Come offre? Boh, ha cambiato lei che ti sta disegnando A caso Ah, è normale, lui non si muove Sono addormentati Oppè, ancora? Io, io devo disegnare Oppè Cosa stai facendo? Oddio, vediamo Adula quello scrive Ah, ci sono gli italiani Posso cambiare anche colore Ah Cos'è? Ah, maia È semplice Mi viene in mente, oddio Ah, ho capito No, non è Cos'è? Zombie Eh, non me lo dà Ma non è zombie Ah, è albero Quello è un albero Si, era preciso Si, era preciso eh Poi te la dici giustamente Sono il primo Oh, no Zitto Una cosa veloce Che cos'è Spider? Che cos'è? Quello scrive Diamante Ah, questo è un uomo È deformato È nato con qualche malattia Oddio Ti è Chi deve accadere Ma Rosa Ma Rose Guarda, guarda Sei invisibile Vai dicelo qua Ma sei un mastardo Ho scritto flore È la stessa cosa Non ci posso credere Ma Basta Giovanni è Rosa Ma Rose Cosa è sto cosa? Eh, Steve Mi ha pissato lo sto Steve Cos'è? Eh Oval Buco nero Black Eh Cacchio è? Stribes Secondi mancano Moon Leves Cos'è? Leves Ah, vai, vai Non ci prendiamo in giro, dai Come ha fatto a indovinarla? Cosa? Come fanno a indovinarla? No, non l'hanno indovinarla? Sì, sì, invece Non è una cosa possibile Dog, ma no Ho un culo No, non è possibile Come fanno a indovinarla? Come fanno a indovinarla Dog? Eh, vabbè ragazzi Per questo episodio è tutto Eh, spero che il video vi sia piaciuto Eh, un saluto a casa dal GioQ21 Vi auguro una buona notte Da F32 Eh, auguriamo buona notte a tutti Eh, un saluto a casa dal GioQ21 E da F32 Ciao a tutti Ciao a tutti